È un'utile prospettiva vedere il mondo alla stregua di un sogno. Quando abbiamo un incubo, ci svegliamo e diciamo a noi stessi che abbiamo solo sognato. Si dice che il mondo in cui viviamo non è affatto diverso. Che c'è? Che c'è? Se ti dà fastidio, perché non provi a mandarlo via? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Il codice del samurai va cercato nella morte. Si mediti quotidianamente sulla sua ineluttabilità. Ogni giorno, quando nulla turba il nostro corpo e la nostra mente, dobbiamo immaginarci squarciati da frecce, fucili, lance e spade. Travolti da onde impetuose. Avvolti dalle fiamme in un immenso rogo. Folgorati da una setta. Scossi da un terremoto che non lascia scampo. Precipitati in un dirupo senza fine. Agonizzanti per una malattia o pronti al suicidio per la morte del nostro signore. E ogni giorno, immancabilmente, dobbiamo considerarci morti. È questa l'essenza del codice del samurai.